Liz, così refrattaria, così nebrotica, così inquieta. Lui dice che se ricomincia a scrivere ricomincia ad amare. Mary, così sicura, così ambiziosa, così spontanea. Questo è un romanzo. Ho tutta una scatola piena. Il successo è la causa della loro infelicità. Il tuo libro era degno di vincere come quello di Sharon e che possa cadere stecchita se tento ancora di spiegare. Tu non l'hai dovuto dividere, il tuo premio. A te l'hanno dato tutto intero. Ma la loro amicizia è più forte di tutto. Jacqueline Bisset e Candice Bergen, nell'ultimo capolavoro di George Cook. Ricche e famose. Domenica alle 20.30, sul grande schermo di Canale 5. Carta igienica Scottex. Dieci piani di morbidezza, dieci rotoli di convenienza. E da oggi, in regalo con i punti Scottex, due splendide formelle in rame. Manzotin è gustosa, magra, appetitosa e gratis. Sì, con la grande offerta, 4 al prezzo di 3, una Manzotin è gratis. Scegli Manzotin. Oggi ti dà di più. Sai qual è l'energia più conveniente per riscaldare la casa? Il metano. Il metano ti dà tutto il calore che ti serve senza interruzioni. Non sporca la caldaia e non inquina l'aria. E con il metano, risparmi. Usalo per il riscaldamento. E una parte del calore non ti costa niente. Passa al metano. Il metano ti dà una mano. Il metano ti dà un'energia più conveniente per riscaldare la casa. West Cannonball by Five Viaggio La corsa più forte dell'anno, circa piloti. Chiama Cannonball. And let's go West. Hello Chagri. Chagri shampoo schiume. Uno shampoo nuovo, speciale, diverso. Una schiuma neutra e delicata che rende i capelli morbidi e ricchi di vitalità. Chagri shampoo schiume. Morbidezza e vitalità dei capelli. Per il ciclo, nati per vincere. E' facile tornare a Coney. Avete capito Valordi? Ok, tutto ok. I guerrieri della notte. Domani sera alle 20.30 su Italia 1. Enervit per vincere. Enervit per dimagrire. Enervit, forti e magri. Quale uso io? Nuvenia Pocket. Sì, Nuvenia Pocket. Perché Nuvenia Pocket è l'assorbente ripiegato in bustina che mi dà morbidezza, protezione e sicurezza. Io lo porto sempre con me. Nuvenia Pocket. E ti muovi sicura. Non è cancellare la stanchezza dal viso. E' facile. Flash e Febo Té di Vichy. Pochi secondi e il tuo viso ritrova lo splendore. Il suo effetto è immediato. Distende i tratti del viso, lo illumina e fissa il macchiaggio. Flash e Febo Té di Vichy e il tuo viso ritrova lo splendore. Cocanetto da tre fiale a 9.000 lire. In farmacia. E allora lei finalmente capì che era Sanna. salva tra le sue branche. Che uomo. Un vero duro. Certo che... Certo che potresti offrirmi uno di quei biscotti. Biscotti? Sì. Questi con l'amaretto dentro. Sembra davvero speciale dentro. C'è del tenero. Sì, tenero. Assaggia. Cara, dicevi qualcosa? Ciao, bimba. E ora che scompaia. Questi li porto con me. C'è del tenero. I nuovi biscotti della Pavesi dal gusto a sorpresa. Lo so che tornerà perché ho altri tre gusti. C'è del tenero. All'amaretto, all'arancia, al cacao e con gocce di cioccolato. Finburger, i primi incredibili burger in tre gusti. Pomodoro, aglio e prezzemolo, cipolla. I nuovi Finburger, della stuzzicomania. Di stuzzica, Finburger, la vera novità. Ha, 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 della stuzzicomania. Finburger e Films. Il sapore della frutta fresca. Molto fresca. Confettura Santa Rosa, frutta fresca a pezzettoni. Basta un niente e già mi prende. Guarda, guarda come scende. Viva allora l'allegria della tua dolce armonia. Maionese da tavola, craft. Un sapore così. È una vera poesia. Craft, cose buone dal mondo. Contro mal d'auto, mal di mare, mal d'aria, oggi esiste un rimedio efficace. Travel Goom contro mal d'auto, mal di mare, mal d'aria. Si mastica all'insorgere dei primi sintomi e agisce in pochi minuti. Signori, il mio più cordiale buon viaggio con Travel Goom. Mille de sorte, un piacere. Da gustare insieme. Oggi c'è una novità nel mondo dei piatti. Dixam piatti a doppia concentrazione. Con poco, sgrassi di più. Eccola, eccola, Luista. Che cosa? La cometa di Ali. Andata lì, quella è la reclama del supermercato. Si vede anche a occhio nudo, vedi? E adesso la cometa quando è fatta? E fra 75 anni. Che peccato. No, ma non ti preoccupare che se continui così, tu la vedi almeno un paio di volte. Io non la voglio vedere. Dice che porta male. Ecc Ali. Ha visto che porta male? No, in confronto a te la cometa di Ali è un portafortuna. Eccolo, il nostro portafortuna. L'ha fatto Geggia? Sferiamo. E il tuo? E qualità rossa la vazza? Buono, buono. Questa è come una stella polare, non ti vuoi sbagliare. Oh, e la vazza, eh? Più lo mandi giù, è più ti dirà su. Mantieni il mare blu. Usa Sole Blu. Il detersivo liquido per lavatrice, che non contiene fosfati. Per un mare sempre blu. Ventesimo secolo, il nostro tempo. Un'epoca lacerata da inquietudini, turbamenti, ansie. Un'epoca illuminata da gioie, conquiste, speranze. Ventesimo secolo, il grande cinema per capire l'epoca in cui viviamo. Gorky Park. Incontri ravvicinati del terzo tipo. Sindrome cinese. Black Sunday, il prossimo uomo. Cinque grandi film, cinque appuntamenti fondamentali col tempo della nostra vita, commentati per voi da Guglielmo Zucconi, con le più prestigiose firme del giornalismo, della cultura, della politica italiana e internazionale. Ventesimo secolo, dal 7 maggio ogni mercoledì alle 20.30, su Canale 5. Linese Svelto presenta, nuovo Linese Svelto con più fluff assorbente di tutti. È vero, Linese Svelto ha ancora più fluff, per questo assorbe pipì normali, super e da campione. Nuovo Linese Svelto, nessun pannolino assorbe di più. Nascosta in una goccia d'acqua, sai cosa c'è? La più grande forza pulente della storia. Guarda, a 100 gradi l'acqua diventa vapore. Miliardi e miliardi di molecole di vapore che attaccano lo sporco così. Disgrega. Ingloba. Niente al mondo agisce contro lo sporco come il vapore di 100 gradi. 100 gradi Fisselbeck, la potenza del vapore. Contro quel diavolo di sporco. Come cancellare la stanchezza dal viso. È facile, flash e febbo tè di viscì. Pochi secondi e il tuo viso ritrova lo splendore. Il suo effetto è immediato. Ristende i tratti del viso, lo illumina e fissa il macchiaggio. Flash e febbo tè di viscì. E il tuo viso ritrova lo splendore. Cocanetto da tre fiale a 9000 lire. In farmacia. Suspense. Emozione. Con la grande promozione esso tira la coda al tigre. Una storia di uomini veri che volevano vincere. Ogni 20.000 lire. Di benzina o diesel. Puoi avere questa. La cartolina che ti può far vincere subito 100 Peugeot 205. Oh mio! E un milione di litri di carburante. Abbiamo vinto una Peugeot 205! Tira la coda al tigre fino al 31 luglio nelle stazioni Esso. Vorrei che ogni pezzo grosso di Washington vedesse questo posto maledetto. La disperata ribellione degli Cheyenne contro i visi pallidi che li avevano costretti a vivere nel deserto. A noi chiedete di ricordare molto. Mentre i bianchi non ricordano niente. Hanno deciso per la guerra. Il nostro compito è di mantenere la pace. E ghiagli! E ghiagli! Buongiorno Caterina. Buongiorno papà. Come sei carina. Che bella pelle che hai. Sfido. L'ho abituata bene la mia pelle. Ogni giorno la delicatezza Johnson's mantiene la mia pelle intatta. La crema liquida. Il latte detergente che pulisce così a fondo. Il tonico rinfrescante e senza alcol. E poi il sapore neutro Johnson's. Puro e naturale con la sua morbida schiuma. Abitua la tua pelle a Johnson's. Così mantieni intatta la tua bellezza. Dalla Johnson & Johnson nati per lui. Anche la migliore auto usata, di qualunque marca sia, ha bisogno di cure per dare il meglio di sé. Da noi, concessionari Opel, l'auto viene revisionata con cura in ogni parte fino a farla tornare in piena forma. Solo allora un'auto usata per noi è davvero ok. E ve lo dimostrano un anno di garanzia scritta della SAI e un anno di tranquillità Europe Assistance. Automercati Opel Ok. Usato di razze. Di tutte le razze. Mamma, cos'è questo? È GS. Dove veniamo noi? Perché veniamo noi? Perché mi piace. Perché? Perché troviamo tutte le cose buone che ci servono e risparmiamo. Perché? E tu? Ti piace qui, signor? Sì. Perché? Ma che ci sono i dolci, le signorine simpatiche, i caurelli. GS piace di più. Ma che fai? Pulisco. Così? E come? Non conosci il mocio di leda? Beh, sì. Devi provarla. Però, asciuga. Certo. Poi lo sciacchi, lo strizzi senza bagnarti le mani e senza chinarti. Come pulisce bene. Non lo vorrai indietro. È tuo. Sarai mica... un angelo. Mocio vi leda. Non sempre lo portano gli angeli. Fantasmatico! Lava sbianca, lo sbiancante che si usa in lavatrice e nel bucato a mano, non è detersivo, né candeggina, né perborato. Lava sbianca, lava sbianca rigenera, lana, seta, cotone, lino e tutte le fibre bianche. Lava sbianca è fantasmatico! Un brindisi per i tui! Otello, sempre questa fenella. Testemola, sei mica gelosa? Piantatela! Arriva i tuis! E tuis! E tuis! Scendi me! Che emozione! Mi si ghiaccia la menta! Ha scelto Dudu, il brasiliano! Per forza, lei balla e canta e lui ha ritmo nello zucchero! Anche noi! One, two, three, four! Dufour, l'amor! Six, five, four, three, stop countdown! Quello che voglio è che lo voglio qui, subito! J&B Scotch Whiskey Dove conta il carattere? Qui manca qualcosa! Sì, ma che cosa? Gradosa! L'unico dosa formaggio che grattugia, che salva le dita, che conserva la freschezza! Contenitori e dosatori Molto belli meliconi! Immaginate un'auto con un'eleganza tutta mediterranea Immaginatela anche con affidabilità e prestazioni tutte tedesche E poi immaginatela così spaziosa da divorare montagne e di bagagli Seat Malaga è tutto questo Fascino latino e tecnica tedesca Il meglio che possiate immaginare Seat Malaga Quando sei sotto pressione E ti senti mentalmente affaticato nell'affrontare lo studio Il lavoro Gli impegni di ogni giorno Migliora la tua capacità di attenzione e concentrazione con Memoril Perché Memoril giova alle cellule cerebrali Memoril Meno stanchezza mentale e più concentrazione Memoril dalla ricordati È un medicinale usare con cola Chiedi Memoril al tuo farmacista Leggeri attentamente le avvertenze Ehi, camicette uguali Erano uguali In acqua calda la mia si è scolorita Ma c'è aria il bucato a mano Pulisci in acqua fredda e rispetta i colori Guarda che colori Sì, e che pulito Ariel, fredda lo sporco, accarezza i colori Mantieni la tua buona forma È una ricchezza che devi conservare Scegli Maya L'olio di solo mais Maya è così limpido Così chiaro E lo puoi vedere nella sua nuova trasparente bottiglia Maya porta sulla tua tavola Le virtù del mais Maya Grande qualità Al giusto prezzo TV sorrisi e canzoni Ti porta dove gli altri non arrivano TV sorrisi e canzoni Questa settimana ti porta Torna Renato Zero Con il nuovo album soggetti smarriti Turbo Mexico Sciletti Indovina il mondiale Vinci 10 auto turbo Super spot Ecco i 16 spot pubblicitari Più belli dell'anno TV sorrisi e canzoni Lo spettacolo in prima fila 35 anni di giornalismo scritto E da due anni anche giornalismo televisivo Perché? Io credo che la risposta sia molto semplice Ed è che in questa società dell'immagine o dello spettacolo La parola scritta forse da sola non basta Bisogna coniugarla, sposarla con le immagini Bisogna imparare una nuova tecnica espressiva Un nuovo linguaggio Bisogna ringiovanire, ricominciare da capo E poi perché ci sono delle differenze nette Quando io uso questa macchina da scrivere Io parlo per me stesso Ignorando quasi qual è il pubblico a cui è destinato Invece in televisione io devo tener conto Del grande pubblico a cui arriva la televisione Canale 5 E devo far parlare le cose e le persone E quello che sto cercando di fare ai protagonisti Protagonisti domani sera alle 23 su Canale 5 Grande avventura Malvoro 1986 Alla partenza 5 squadre A bordo di 5 fuoristrada da 200 cavalli E via attraverso la California Nevada, Arizona e lo Utah E quando un mezzo non potrà più proseguire Un altro gli darà il cambio Dopo il deserto, dopo le montagne Dopo il tumulto delle acque La dove nessuno passa Il cavallo riuscirà a passare Per l'ultima tappa La più dura Parti per l'avventura Iscrivendoti al Malvoro Adventure Team 86 Al più presto Amaro Montenegro Amaro Montenegro Sapore vero Per un veterinario La giornata non è mai finita Ma è il mio lavoro E l'ho scelto io Arrivare appena in tempo da un puro sangue Queste sono le mie soddisfazioni Questa gente Questi profumi Cose uniche Come Amaro Montenegro Amaro Montenegro lo riconosci subito Ha un sapore Un sapore che non ti sbagli Amaro Montenegro Sapore vero Auto Facile Manuale di manutenzione dell'automobile Per intervenire con sicurezza Su tutte le parti della tua auto Ed averla sempre a punto In edicola Auto Facile Con il primo fascicolo In regalo una tannica d'emergenza Una proposta De Agostini Un sapore di un parfum Valextra Extraordinario Per sport Per avventura Per gioco Per amore Canale 5 Segno amico